Eccoci, quindi questo paesino si chiama La Langlida, ci stanno 500 persone e sono tutti induisti qua, a Bali la maggior parte delle persone è induista, che è una cosa abbastanza rara in tutto il sud dell'Indonesia. Tramite Workaway alloggio in questo santuario che si chiama Sanctuary Sanctuary ed è questa donna di 71 anni che ha messo, che ha creato questo parco dove le strutture sono tutte fatte di mosaici, mosaici, è un posto bellissimo proprio sul fiume che porta poi al mare, quindi è un posto meraviglioso. Grazie. 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 È bello perché ogni piccola casa che ha un giardino, cioè praticamente tutte, ogni persona si costruisce il suo piccolo tempio e quindi tutte le case sono piene di tempi che si vedono anche dalle strade, quindi è molto bello. Il visaggio ha quindi queste vie qui con queste decorazioni bellissime. Quindi questa è la strada che porta al mare, che porta alla spiaggia che si chiama Balian Beach. Questo sembra essere una piantagione di banani. Ancora Pianchi". L'Avila doveva andare in un paio con un profumo e lo spiegge lo spieguendo, che significa Si chiamata he fornato a fare un'azirabile. Quindi perché si chiama Caliano, un'azirabile. L'azirabile che ormai è un'azirabile. Un'azirabile in un'azirabile, quello che affremmo stai messo. Un'azirabile dice che qualcuno ha un'azirabile. C'è un'azirabile, sono un'azirabile. Un'azirabile da un'azirabile. questo è il fiume che entra nel mare però le onde sono talmente potenti che è più il mare che entra nel fiume che l'incontrario supermercato benzena incredibile si fa benzina il piatto tipico che avrò mangiato 400 volte grazie per la visione